Misterioso incendio la notte scorsa a Calimera. Le fiamme sono divampate da una bisarca intorno alle 23 in via Edison alla periferia del piccolo comune della Grecia Salentina. Il rogo ha dapprima ingoiato parte delle lamiere del carro attrezzi intestato a un autotrasportatore del luogo e poi ha raggiunto una fiat punto. I mezzi hanno subito danni piuttosto ingenti. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce i quali hanno provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area per scongiurare ulteriori conseguenze. Sconosciute le cause che hanno innescato l'incendio anche se nella zona in questione non è stato rinvenuto nulla che lasci sospettare la natura dolosa. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione locale assieme ai colleghi della compagnia di Lecce.